Questo è il punto che dà per fare. In militare, se ci pensate bene, mi dico tranquillo. Era il miglio lavoro, lo piaceva, la paia era fuori, teneva una bella divisa. Quando io ero al paese, mi rispettavo tutti i guanni, io ero sergente, sergente dell'esercito del Regno. E poi, poi si è scappato tutto, ancora me lo ricordo, l'ottobre 1860. Ma rimane al paese per cercare di trovare volontà, ma quando si è trovata, i paesi ormai combattivano i signori, i signori combattivano con la libertà. Proprio loro, i tipi che erano fatte sempre che loro gli farevano, quando erano andati, costruivano combattere con la libertà. E che lo libertà lo levano. E cosa c'è che lo libertà lo levano? La libertà lo fregava. La terra non la poteva accendere. E si mangia sapone che ne mannotte. Cioè, ne mannotte pure il buono. Potevano la terra. La terra che prima erano tutta, ma solo loro. E si atteggiano. Finchè divino la panna. Perché quando divino la panna, basta una scoppettata la cabana. E gli spariscono tutto quanto. Come gli soggetti, quando si interagniate. La stessa cosa. Però, danno diverso. Danno non facendo scappamento. Siamo venuti a Gaeta. E a Gaeta mi sono collegato con la compagnia della Grascia. Siamo razzercati con la palla Puegna. Siamo venuti a Cipripeco. Siamo venuti a Pallovolo. Siamo venuti da tutta la parte. Però, a un certo punto, non c'era quello che stava succedendo. Arrivavano gente, oltre la terrazza. Che dicevano cosa? Che dicevano cosa? Che dicevano cosa? Che dicevano cosa? Che dicevano. Io ci sono i soldati. Però io hevi ho provato. E tramite spese. Non ho cercato niente. Io mi sono preso per me vorrei rimanere. E ho secondo me. Ho già tempi, organizzate qualsiasi uomini, perciò che i figli hannoiesti hanno un periodo franno. Anche siamo fattiедamente al prossimo passaggio. È stata guerre. La guerra, mamma. La guerra è guerra. può piacere il suo a chi non l'ha fatta mai, io la sono fatta, ho dieci anni, lo sai che è il signore, la guerra, la sei mangiata da frate, la sei mangiata da una volta, sei affavorita tra la mamma, a una a una, sei mangiata da tutti gli uomini che ho tenuto, non erano duecenti e cinquanta, ma ne erano nevano quattro, e a poco a poco, sta a finire tutto, adesso, mostro in cima a questa montagna, queste quattro uomini, non mi tengo a farà, da gente che non me la racconta poco, io lo so, che a tutti quelli che avessero a bacio a te, dal tuo passo, mi sono fatta cambiare tutti gli stanno, se non si muoverebbe la fama, io muoio stanno a provare altra tipa, stanno a provare altra tipa, io lo sapete perché, perché in cima alla ciocca mia, c'è stata una certa taglia, che solo a titola, una romana impressionante, basta una che mi ha visto passare, e far raccontare a dove mi ha visto passare, gli erano cinquecenti, io, il saggianto che si stanno utilizzando, che quando arriva a fuori, si guadagna col centesimo, a voto ogni tanto, non si guadagna se cinquecenti, e che quando arriva a fuori, si guadagna, lo so, che si guadagna, se non è che si guadagna, perché se non è che si guadagna, invece, non è che si guadagna, ma vengono morto, io non posso, se tenei pietà, perché se teneva pietà, dopo dieci anni, ancora ci stavano qua, e da ora che mi hanno visto, e ora, io lo so, io lo so, io lo so che mi stanno a dare la caccia, e mi sono ingaffidata a gente che non mi piace tanto, come mi canta una voce, chiamato un barone, da conga, che non è fuori miei parenti, e ho collaborato con me e tutti gli stanni, ma se quando è stato risultato, forneva la panna, ma si fa il mio paio a fuori, ora mi chiesto, se non mi chiesto, adesso, ci hanno fatto fare il rapimento, due persone, carissime, c'era il campostello, quando la somma poteva il paio a, c'era che stavano a fare, tutte, e siamo stati costretti a staccio, noi i rapimenti siamo fatti pure prima, chissà bene, ma era gente che si è ammoredata, era gente che era tradita, che stava dalla parte piemontese, sembrava la parte piemontese, ma non c'erano a dare soldi a lui, per combattere, allora ci sembra qui, ma non disse che io conosco, e non sono andata in canta, a me non sbagliato tutto, trovavo qua sotto, io non stavo qua c'è, la tenda stava rotta, e stavo aspettando, stavo aspettando i campi, per fare la trattativa, oggi c'era il primo appuntamento, ma non qua, andata a parte, perché non ci sono dita per sé, l'occhio si è fatto trovare, è nata una, che gli è portata qua in cima, io è arrivato, è arrivato, e chi si è più stai, trombando i sospetti, io guardo in faccia, e chi li ha passato l'occhio, io gli chiede una cosa, disse che per sé, e mi risponde a me questa voce, no, che non mi piace, non mi piace niente, troppo domani, è cominciato a fare, gli addomani non costano, e siete solo chissi, e come non è, a me chissi non mi piace, infatti passera, io sono fatto rimanere qua, non ci sono mandato la casa, sono detto, ora torno qua, e domani mattina ragionavo con voi, l'unica cosa buona, è che ha portato a mangiare, noi, non parecchi loro, non mangiare, ha portato una bella somma, di roba da mangiare, e se non mangiare, mi sono fatto pure, non pare, un bicchiere di vino, e pare che ha menerato, una cipi andata, anzi, sapete che cosa dico, ma pare che non stanno qui di solito, e sapete che pare, che vuole, un bagno guammè, ma sei pregata, ma sei pregata, ma sei pregata, ma so por, ma tende a fare ma so por, perché devo ancora a me, ma vine a tutto il lato, a la gata, a la fiesta, a la finestra, e mi vede a me. Stiamo andando a guardare di piatta e mi vede a me. Ha tutta la parte mia amica. La tassia, tutti gli supporti, ma si è visto a me e te ne sei scappato. E io te lo faccio. Io non so che tu come mi vede. Ma mi dà così, che la pistola a mano che tu voglio sbagliare. Tu te ne stai giocando. Io mi sono morto, ma se ci sei tu, non te lo ricordo. Il mondo, che si è diventato ricco, i soldati che ti sono stati, e quelli che ti hanno dato, facendo me a me, ti sei comprato tutta questa terra, qua in Cina, sei proprietario di una salontana. Io oggi sei venuto a fare la terra terra, ma diciamo una volta, qua c'è un braccio. perché tu già ti mandi più a camminare? Tu ti sei dalla famiglia, tu non vieni più. Se sei arrivato a Cina, non posso guardare la roba a te. a un certo punto che hai capito, che ti mandi più a camminare? Tu lo sei. Lo sei sentito a dire. C'è un braccio? 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 Ci sono dei braccianti. Ti mandi più a camminare. A un braccio? E non devi più a camminare. C'è un braccio? Grazie.